e questa era la prima scelta della nostra ospite che è con noi Carla Fiorentino autrice di del libro pubblicato da Fandango dallo scoglio si vede tutto buongiorno Carla benvenuta stiamo combattendo con le linee telefoniche quindi ci scusiamo per la qualità dell'audio però appunto siamo riusciti a raggiungere anche Carla Fiorentino sullo scoglio più lontano dal mondo non so se adesso sia sullo scoglio non credo glielo auguro diciamo che una delle mie dediche che è una delle grandi difficoltà per me che odio fare le dediche tutte uguali quando esce un libro pensare delle dediche che in genere cerco di preparare almeno qualcuna prima e in genere una delle che uso di più è infando lo scoglio è uno stato mentale quindi diciamo che io sto sempre sullo scoglio soprattutto quando ne ho bisogno ok e in realtà poi questo scoglio appunto è oltre ad essere credo ben piantato nella tua testa è un grande soggetto letterario per te però prima raccontami della tua scelta musicale di Battiato beh Battiato come dire nello specifico ho scelto una canzone che avesse a che fare con il mare naturalmente con la dichiarazione estiva perché il libro ovviamente è un grande libro di mare e Battiato è diciamo la grande la voce di Battiato è la colonna sonora della mia vita in qualche modo per me lui è veramente un grande compagno lo è stato e lo sarà sempre quindi era impossibile non scegliere una sua canzone in effetti devo dire che quando leggo le tue storie ambientate a Carloforte perché questa non è la prima è ormai diventata una specie di saga cerco sempre di immaginarmi una colonna sonora in realtà mi viene in mente solo il vento perché ogni volta penso a questo vento questo mare non riesco a infilarci la musica però invece magari tu un po' la pensi anche musicata oppure no? beh io ascolto musica spesso quando scrivo ma anche quando sto a casa quando non ascolto audiolibri devo dire che adesso audiolibri sono dei grandi contendenti di tempo sonoro come dire per le mie orecchie e sento spesso naturalmente Battiato perché è anche una musica che conosco ormai così bene quindi non va a disturbare come dire neanche la mia concentrazione come invece può essere nuova senti allora torniamo al libro dallo scoglio si vede tutto Tornavetta che è la protagonista anche dei Tonni non nuotano in scatola che è diciamo precedente a questo 2020 2020 sì è uscito in un anno comodo diciamo noi c'eravamo eh l'hai intervistata tu da sola sì 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 io me lo ricordo benissimo sì sì e infatti quando poi è uscito questo nuovo libro ero molto curiosa di vedere come come si evolvesse un po' la vicenda di questa donna che come direbbe mia madre forse l'ho detto anche all'epoca come direbbe mia madre non trova pace questo è un po' non so se è un modo di dire cioè è una persona sì no non in senso negativo una persona che diciamo fatica a volte no a trovare la sua posizione nel mondo o meglio ne ha più di una e non sa se deve scegliere oppure se deve accontentare se deve diciamo abbracciare la l'ubiquità mettiamola così raccontami un po' di Vetta beh sì assolutamente sì hai fatto un ottimo quadro Vetta è appunto una giornalista di viaggi è una ossessiva di storie lei lo ammette le storie sono proprio la sua droga mettiamola così e questo la rende irrequieta naturalmente perché in qualche modo ovviamente è legato anche sicuramente alla sua propensione professionale però è anche proprio una cosa identitaria Vetta usa le storie degli altri per capire meglio la propria in qualche modo quindi guarda caso proprio in quelle occasioni in cui la sua vita vive un momento di stallo o anche proprio un momento di interrogazione lei diciamo la sfugge e entrambi i libri in qualche modo sono ambientati in uno di questi momenti nella vita di Vetta e lei ha questa sua modalità di affrontare i propri problemi immergendosi in quelli altrui in qualche modo nei misteri altrui, nelle storie altrui perché proprio attraverso come dire il pensiero, l'intuizione, la macchinazione che lei appunto applica poi nelle indagini cosiddette perché lei appunto poi applica una specie di tutto suo giornalismo investigativo mettiamola così prendendola con le pinze però un pochino quello è il suo metodo di progresso anche nel cercare di frugare dentro le storie per poi arrivare in qualche modo alla risoluzione a una maggiore chiavezza sulla sua storia personale diciamo che in entrambi i libri in qualche modo si può descrivere in questo modo diciamo la trasformazione di Vetta dall'inizio della storia raccontata in un libro fino alla fine cioè il suo arco di trasformazione passa attraverso diciamo l'immersione in una storia altrui che poi in realtà quello che fa Vetta è diciamo da un certo punto da un punto di vista metodico, metodologico può essere effettivamente un'investigazione ma dall'altra c'è un elemento che è completamente estraneo all'investigazione che è il coinvolgimento emotivo perché lei poi tutti i personaggi, le persone e i personaggi perché poi un po' diventano personaggi letterari che conosce poi ci si lascia prendere praticamente da chiunque nel senso che diciamo l'espediente, la scusa per tornare in questo caso a Carloforte dopo tre anni dal libro precedente è un matrimonio, il matrimonio di uno dei personaggi importanti anche del libro precedente che è questa sorta di guru che ha subito varie trasformazioni e è passato da pescatore a guru che a un certo punto decide di sposarsi con una donna giapponese che non ha mai visto di persona e quindi invita Vetta al matrimonio in quanto persona che ha lasciato un segno nella sua vita e quindi lei torna ben felice di avere una scusa per tornare a Carloforte e in più si porta presso il suo compagno Federico che aveva toccato tangenzialmente la storia nel libro precedente era un po' il suo riferimento a casa e invece in questo momento decide di portarselo e anche sperando di farlo innamorare del suo posto, della sua isola come è andata, come hai pensato la costruzione di tutti questi personaggi che abitano Carloforte? perché è una sorta di, una specie di presepe non so, ognuno ha il suo ruolo molto determinato beh allora diciamo che quando ho scritto i tonni non notano in scatola che è il momento in cui questi personaggi sono qui in realtà io avevo pensato fondamentalmente di raccontare l'isola attraverso quello che era diciamo l'episodio verticale di quel libro che era una specie di mistero reale che io poi ho trasfigurato che a me aveva sempre affascinato e nel pensare a come raccontare questo mistero e l'isola sono venuti fuori questi personaggi che poi hanno preso come dire piede hanno preteso io appunto quando mi si chiede perché ho scritto questo secondo libro dico che in realtà l'hanno preteso loro nel senso che io pensavo di confinarli in quel primo libro però in effetti nello scriverlo sono venuti fuori come hai detto tu dei personaggi letterari veri e proprio molto complessi anche che non trovavano esaurimento come dire nel primo libro e da lì devo dire sia l'editore che anche le persone che hanno letto il libro che insomma sono state sicuramente soddisfatte dalla storia verticale raccontata in quello però poi mi hanno detto sì questa va bene ma adesso cioè che cosa succede a Vetta, a Giugura, a Caterinetta, a Tango, a Pietro cioè erano personaggi che alla fine erano andati oltre la storia come succede poi diciamo nei seriali cosa che io però non avevo fatto nel senso che non volevo scriverlo questo seriale e mi ha seccato a tal punto che come ha ricordato Giovanni sono passati quattro anni prima che io mi convincesse a scrivere questo secondo episodio che però io avevo buttato giù io diciamo su questi libri scaletto faccio la scaletta perché sono libri molto come hai detto tu partono con una pseudostruttura gialla tra virgolette perché ci sono colpi di scena anche che poi fanno parte magari anche della linea emotiva perché appunto come bene hai raccontato tu la parte emotiva è quello che diciamo controverte le regole del giallo è proprio il fatto di questa compromissione emotiva perché poi è quella che a me interessa raccontare poi in questo libro specifico lo dichiaro in tutte le occasioni è un libro che vuole indagare sulle relazioni umane in generale e sui segreti, il ruolo dei segreti quindi a me ovviamente interessa proprio più l'aspetto emotivo empatico che quello di giallo vero e proprio però dovendo intersecare molti fatti che devono avere una loro coerenza io faccio la scaletta diciamo dall'inizio alla fine quindi quando mi metto a scrivere tendenzialmente conosco tutto poi naturalmente le cose prendono altre pieghe oppure nella stesura finale ti accorgi che magari una cosa che avevi pensato non funziona bene però tendenzialmente l'ho in mente quindi io questa scalettina l'ho tenuta nel mio bel computer a riposare perché effettivamente l'ha subito appena ho chiuso i tonni e appena ho iniziato a raccontarli in giro perché io diciamo ho in comune con Vetta il fatto che magari non attraverso le storie degli altri però capisco anche le cose che scrivo nel raccontarle nel parlarle con altri più di quando le scrivo io in senso proprio quindi man mano che ho presentato in giro i tonni mi è venuta in mente la scaletta dello scoglio però appunto una parte di me si ribellava a quest'idea della serialità mi sembrava un po' una prigione quindi l'ho tenuta a dormire e poi effettivamente un po' spinta dalla vineazione che è la mia editor che è venuta l'anno scorso con me a Carlo Forte quindi ha visto come effettivamente anche per rispondere alla tua domanda in maniera finale questi personaggi esistono come dire esistono sparsi magari nell'isola senza un'identità cosnetta magari come telepatti ho fatto dei puzzle ho costruito come dei golem però effettivamente la percezione che ha chi va a Carlo Forte ne parlavo proprio con un altro scrittore che mi ha scritto perché ci è stato l'altro giorno a presentare mi ha detto proprio una persona la personalità dei Tabarchini che è il nome del popolo che vive l'isola è molto forte cioè si sente anche per chi arriva e fa un weekend da turista perché proprio sono anche rumorosi e hanno proprio dei caratteri molto forti e quindi è stato facile in qualche modo me l'hanno dettata loro questa psicologia dei personaggi ma devo dire che mentre parlavi riflettevo su un tema tu hai parlato hai detto che uno dei riferimenti è in effetti il tema delle relazioni e io credo che sia anche molto il tema della libertà della libertà anche all'interno diciamo di un rapporto ma anche proprio della percezione della propria libertà che secondo me è un argomento abbastanza interessante da trattare collegandola ad un'isola perché da una parte l'isola è una cosa che uno si aspetta vabbè sono libero di fare cose che magari sulla terraferma non si possono fare e dall'altra però è un'isola nel senso che poi te ne devi andare da lì solo quando c'è la nave che ti porta via insomma no? quindi è interessante questo concetto di prigionia e libertà che poi ovviamente vetta, trasporta e non solo lei all'interno delle relazioni cioè quanto tengo a una persona rispetto a quanto tengo al mio essere libera di diciamo formarmi come persona come donna beh sì assolutamente vetta fa questa considerazione riguardo Federico che appunto le definisce l'uomo con cui divido il fardello dell'esistenza perché è una che rifugia qualunque tipo di declinazione definizione di coppia e lei dice una cosa appunto riflettendo anche su quanto si conosce l'altro e quindi il discorso è prettamente il discorso poi anche di libertà di quanto si lascia l'altro libero di essere se stesso malgrado il nostro sguardo e malgrado la nostra conoscenza e anche in tutti quegli spazi in cui noi non siamo con l'altro quindi non lo vediamo lei dice una cosa racconta un aneddoto dice a me non mi stupirebbe non mi stupirei particolarmente se un domani venisse un uomo vestito di nero tipo uno 007 e mi dicesse che Federico è un agente segreto che ha sempre lavorato un incognito facendomi credere tutt'altro perché appunto lei percepisce è consapevole che il suo l'uomo con cui divide il padello dell'esistenza tiene per sé tante cose della propria vita ecco diciamo che in qualche modo ognuno di noi lo dovrebbe sempre secondo me tenere presente dell'altro che è accanto questa forse era anche una delle mie delle consapevolezze dei pilastri dai quali sono partita per raccontare questa mia storia però poi sicuramente ci sono magari persone che sulle quali è più evidente ecco questa misteriosità e lei lo percepisce in Federico e lo accetta come dire e non solo ma si trova proprio a riflettere del fatto che forse è proprio nell'esistenza di questa specie di linea grigia tra loro che alberga una parte del segreto della longevità della loro storia certo e a questo proposito Carlo Forte per te che tipo di che tipo di libertà è e che tipo di prigionia è questa è una domanda da Marzullo però no è una bella domanda perché ad esempio mi sono ritrovata da poco in un festival a fare una presentazione doppia e io presentavo il mio e l'altra autrice che è un'autrice e in Audi presentava un libro che si chiama che si chiama Claudia lei si chiama Claudia Lanteri ed è una siciliana ed era interessante perché entrambe raccontavamo un'isola ma in maniera molto diversa la mia appunto rappresentava come tu hai detto l'altrove per Betta quindi un punto di evasione quindi l'apertura libertà fuga e l'altra invece era più chiusa come uno si immagina magari certe volte le isole c'è anche un po' prigione e per Betta naturalmente io dico essendo che Carlo Forte non è la sua isola nel senso lei non vive è lì non è nata lì quindi non le può attribuire a quel ruolo di prigione perché non è il posto dove lei passa il quotidiano quindi paradossalmente nel suo caso Betta certe volte si sente più imprigionata dall'immensità di Roma e dalle sue regole e dalla sua complessità e quindi certe volte andare in un luogo che ti semplifica la vita è una libertà quindi in qualche modo Carlo Forte per lei è la libertà dall'immensità romana e dalle sue schiavitù perché appunto sappiamo che per noi che ci viviamo Roma è una città meravigliosa ma è una matrigna terrificante quindi in realtà in quel caso Carlo Forte semplifica semplifica perché è la vita più semplice perché è una vita marina perché lei in più ci va in vacanza quindi non è che non ha un lavoro un quotidiano da rispettare delle regole sociali non ha la famiglia cioè quindi da quel punto di vista è un luogo dove lei può proprio svagarsi e basta guardare solo il mare e fare delle cose poi dopo di che lei appunto come abbiamo detto in realtà è una psicopatica tra virgolette e si deve cercare le storie si mette a lavorare forse natamente si complica terribilmente la vita anche dentro l'isola perché quello è una cosa che lei ha dentro però anche nel poter fare quello evidentemente trova pure il tempo che magari Roma non ha di poter sfogare questo suo bisogno di storie mentre certe volte sappiamo che chi fa una vita il quotidiano romano ti costringe in realtà a delle routine a delle regole molto fisse che certe volte ti impediscono di essere te stesso in maniera totale di fare veramente quello che vuoi perché altrimenti vieni travolto a proposito di questo Carla a proposito di routine di quello che sei costretto a fare e quello che fai la settimana scorsa sul Libraio è uscito un articolo a tua firma che si chiama il potere taumaturgico della lettura a voce alta e mi collego anche ad un'intervista anzi ad una presentazione che hai fatto con Massimo Carlotto recentemente che trova dove vi confrontavate proprio sulla appunto sullo sbalordimento sul potere di portare uno scrittore forte della sua scrittura del suo lavoro con l'editor eccetera eccetera davanti a un microfono leggere la sua stessa opera e trovarsi disarmato come che è successo e beh allora io appunto ho letto voce alta a parte il mio podcast Forti che quindi è nato per essere voce alta i miei due libri appunto di questa chiamiamola trilogia che sarà una trilogia notizia infatti no lo sapevo è aperto il finale è aperto a questo punto sarà una trilogia anche perché due non è un numero insomma a quel punto una volta che è famoso non c'è 203 è vero soprattutto in letteratura quindi sarà una trilogia quindi chiamiamo la trilogia di Carlo Forte li ho letti a voce alta e quando ho letto i tonni che in realtà è uscito l'audiolibro un bel po' dopo quasi un annetto quindi ho avuto del tempo cioè nel senso io credevo di conoscere quel libro e di essermi ci abituata l'avevo già presentato quando mi sono trovata in sala di registrazione a tu per tu con me stessa e con la mia scrittura ho subito un trauma devo dire perché io fino a quel momento non avevo letto le mie cose a voce alta non avevo sentito il suono e per chi è diciamo il tipo di autore che sono io io lo dico sempre non sono un'autrice di cesello come dire non torno cento volte sulle parole non ho pazienza sul anzi dopo che mi rileggo un paio di volte con gli occhi faccio veramente fatica proprio a notare le cose a percepirle la lettura a voce alta è diventata invece da quel momento uno strumento necessario per la la mia proprio rilettura di me stessa e l'analisi dei miei libri e la correzione perché effettivamente leggersi a voce alta per fortuna ti mette da un'altra parte rispetto alla lettura con gli occhi e quindi a me rispetto alla lettura con gli occhi mi ha dato la possibilità di non provare quel senso di nausea di stanchezza che invece io ho quando mi rileggo in silenzio e però nello stesso tempo amplifica il suono delle cose e anche degli errori delle cacofonie delle parole che appunto a quel punto mi è venuto in mente sarebbero potute essere diverse quindi quando io ho vissuto quella esperienza che appunto è stata meravigliosa ma anche terribile mi sono detta non farò mai più a mandare a mandare più fuori dal mio computer nessun testo senza averlo letto almeno due o tre volte a voce alta perché per me almeno sicuramente per come sono fatta io è l'unico modo per accorgermi di errori ma anche semplicemente per calibrare meglio la scelta ad esempio delle parole e della loro sonorità perché con gli occhi non riesco ad avere fino in fondo questa percezione e così e così è effettivamente stato e adesso che sono entrata per i tonni per lo scoglio perché in questi quattro anni o tre anni le cose sono molto cambiate quindi adesso nell'audiolibro si premia la contemporaneità nell'uscita tra il cartaccio e l'audio quindi l'editore a me appunto mi ha messo fretta mi ha detto no non hai capito ti devi sbrigare perché devi uscire in contemporanea quindi devi assolutamente prenotarti i turni di registrazione perché noi non possiamo se no appunto poi il portale non ti mette in primo piano e quindi io mi sono precipitato ho fatto questi tre turni di lettura devo dire che sono stati proprio un'altra tipologia di esperienza rispetto a quello precedente proprio perché venivo da tante letture a voce alta e quindi non c'è stato quel momento di riscontro terrificante in cui mi voleva lanciare dalla finestra anzi ho apprezzato e appunto ho avuto conferma del fatto che quello per me la lettura a voce alta è un metodo molto valido dopodiché si scoprono sempre delle nefandezze perché c'è sempre poi qualcosa che magari sfugge perché magari si aggiunge anche all'ultimo ci sono stati io sono ritornata su alcune parti un po' velocemente quindi poi magari qualche ripetizione io sono molto infastidita quando leggo voce alta dalla ripetizione delle parole quindi magari te ne accorgi mentre se leggi con gli occhi se c'è la stessa parola diciamo concettualmente importante in una pagina magari non te ne accorgi soprattutto sei distanziata quando leggi a voce alta te ne accorgi anche una ogni 50-30 righe dopo ti disturba e quindi la vuoi togliere e quindi ho fatto ecco diciamo ho fatto bene mi sono data un buon voto nella rilettura dei tonni sono stata contenta e devo dire che ho ricevuto anche i complimenti dalla regista perché effettivamente la familiarità che avevo col testo si percepiva avendolo letto a voce alta tante volte avevo già un'idea chiara di che intonazione dare alle cose non mi sono praticamente mai fermata perché era diciamo un sentiero molto noto in quel momento devo dire che per esperienza personale io ho sempre trovato veramente piace cioè è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto leggere ad altavoce è un po' come cantare cioè è una cosa che la facevo da ragazzina mi ricordo da bambina prendevo o i libri che stavo leggendo oppure le raccolte di cose per la scuola di testi diciamo per la scuola ogni tanto andavo a pescare quelli che non avevamo fatto perché mi piaceva il fatto di non averla mai letta e la leggevo ad altavoce un po' da secchione ma non per un no perché mi piaceva proprio l'idea di leggere ad altavoce non lo so perché mi dava proprio l'idea quasi artistica l'hai scoperto da sola io invece diciamo ho una mia pigrizia io sono diversamente pigra nel senso che poi in realtà io ho una mia pigrizia che mi causa in realtà poi una forte capacità di programmazione quindi viene scambiata in realtà per iperattivismo in realtà io faccio tante cose programmo e agisco in maniera proprio perché sono pigra e quindi odio poi dover fare le cose di fretta però in realtà è come quando arrivo 30 ore prima lo capisco perfettamente è proprio una cosa una mia forma di pigrizia mentale voglio avere il tempo giusto per fare le cose e quindi la lettura voce alta è una cosa a me scocerebbe non è che lo faccio proprio con piacere lo faccio però perché ormai ho capito che lo devo fare che è giusto certo che serve grazie mille Carla Carla Fiorentino dallo scoglio si vede tutto pubblicato da Fandango ci sentiamo per il terzo ci sentiamo ah certo ovviamente ci sentiamo per il terzo immagino l'estate prossima perché o anche quella dopo insomma quando volete tra il 26 e il 27 penso insomma una cosa così di per la va bene va benissimo Fandango che è il mio padrone certo la tua seconda scelta è De Andrè che è un po' obbligata perché Creusa de Ma è una canzone in Ligure e appunto si parla in Ligure Creusa de Ma tra l'altro è il nome di un bellissimo festival di colonne suonore di cinema che sta iniziando questi giorni e insomma mi è sembrata una scelta una scelta doverosa grazie mille Carla a presto ciao